John Burno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Empoli Juventus 4-1 Cioè Allegri, Allegri io fossi in te Se veramente vuoi bene a questa squadra Se vuoi bene a questa squadra Io adesso andrei in conferenza stampa E direi, io adesso mi dimetto Mi dimetto perché oggi è stato veramente la ciliegina sulla torta Umiliati dall'Empoli Dall'Empoli che sta in basso Anche se hanno subito levato questi 10 punti E adesso l'Europa scordiamocela L'Europa scordiamocela Ragazzi veramente l'Europa scordiamocela Perché non ce la meritiamo Non ce la meritiamo Dopo stasera ragazzi la stagione è finita La stagione è finita e soprattutto sono finiti anche i sogni per andare in Europa Basta 4-1 con l'Empoli Figuriamoci con Napoli Adesso ragazzi posso capire contro il Napoli Ma contro l'Empoli no Squadra che dovevi vincere massimo 3-0 stasera Perdi 4-1 Perdi 4-1 Ma ci si può vedere Allegri se lo dico un'altra volta Se lo dico un'altra volta Con tutto il bene che ti voglio Però stasera hai esagerato Hai esagerato Quindi adesso vai in conferenza stampa Dai le dimissioni E ti levi dalla minchia Vai subito in conferenza stampa E dai subito le dimissioni Dimettiti Nessuno ti può vedere più Siviglia era l'ultima spiaggia Adesso l'Europa andata Ragazzi l'Europa League Champions Conference Tutto andato Andato Ancora peggio dell'anno scorso Ancora peggio dell'anno scorso Cioè noi avevamo pure i punti Quindi stiamo a posto Stiamo a posto Stiamo a posto Bravi Bravi Se c'era un briso di speranza Che arrivavamo Massimo in Conference League In Europa League Adesso 0 0 Perché il Milan Figuriamoci cosa si può fare allo stadium Ma levatevi da mezzo Che giochiamo in Europa Leviatevi da mezzo Che non arriviamo Ragazzi così Non arriviamo neanche in Conference League Manco Perché contro il Milan Sicuramente ne prenderemo 3-4 Contro l'Udinese Ne prenderemo 2-0 Finito Finito L'Europa è finita L'Europa è finita 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 Se va bene Andiamo l'anno prossimo Se va bene Nel 2024 Settembre 2024 Se abbiamo dimostrato di essere cambiati Andiamo in Europa Altrimenti neanche là Perché quest'anno è finita È finita Penalizzazione 4-1 Se volevi andare in Europa Stasera vincevi Se volevi andare in Conference Europa League Oppure il quarto posto Che non dico che era facilissimo Ma non era manco tanto difficile Ma niente Niente Oh basta Allegri Allegri lo dico un'altra volta Basta Levati da mezzo Adesso Se ci tiene a questa squadra Lo ridico Se ci tiene a questa squadra Se vuoi bene a questo club A questo club Vai Vai In conferenza stampa E dai subito le dimissioni Dai subito le dimissioni Perché non ce ne può più Primo tempo Dove un calcio di ricordi Che secondo me c'era 1-0 Un 2-0 Che poteva essere evitato Il secondo tempo 3-0 Cioè Poi Dopo 85 minuti Ci svegliamo Facciamo il 3-1 E poi Come se niente fosse Abbiamo perso tutto Cadiamo a terra 4-1 E ti fai Prendere a calcio In faccia Quattro volte Ti fai prendere a calcio In faccia Quattro volte Cioè io fossi in voi Sarei uscito Sul 3-0 Sarei uscito dal campo Sarei uscito dal campo Sarei uscito L'unico L'unico che merita Siamo noi tifosi Che siamo andati a Empoli A sostenerli Ma nessuno qua si salva Perché Ragazzi Non siamo stati capaci Di mirare alla porta Solo a chiesa Ha fatto l'unico tiro in porta Che ricordo E ha segnato Poi il resto No Sopra la traversa Tutti Tutti quanti in tribuna Oh Tutti in tribuna Adesso contro il Milan Levatevi di mezzo Che vinciamo Levatevi di mezzo Perché non succederà Perché non succederà Ragazzi Contro il Milan Ne prendiamo Giuseppe Eppure contro l'Udinese E si può chiudere Stasazione qua Ragazzi Comunque Nonostante questo Sempre sono vostro A Juve Iscrivete al canale Commentate Condividete ragazzi Soprattutto Lascia like Se anche tu E' un piccolo di speranza Per l'Europa Ragazzi Però Speranza Ce n'è zero Speranza così Ce n'è zero Ce n'è zero Ragazzi Che mi forse a Juve Ciao E' un piccolo di speranza